questo è solo l'inizio dottoressa corti questo è solo l'inizio signor la manna questo è solo l'inizio quanto è vero di io sacrifico la mia vita per togliervi da quelle sedie sacrificherò la mia vita per togliervi da quelle sedie la mia vita sacrificherò per togliervi da quelle sedie vergogna chiedo chiedo se non veramente mi taglio la vita che venga il presidente del tribunale di sorveglianza avete creato un mostro ora sono i vostri e questo è solo l'inizio basta basta non piangere basta dai dai mamma che devo andare questi gente è tutta molto per bene dai facciamo stessa scena abbiamo un po di gocce vado me le faccio togliere me le faccio sistemarmi nell'ospedale non me ne avevo l'ospedale stessa ma ti prego non voglio allenarti a preoccupazione no non lo sanno loro poi te lo faccio sapere appena lo sappiamo te lo diciamo il mio telefono chi ce l'ha c'era lei l'ho dato lei c'era lui no non deve stare bene le manette